Ci saranno anche Gradare e Gabizzi insieme a Pesaro nella notte delle candele 2021, in programma martedì sera. Per il borgo di Paolo e Francesca è la prima volta. Gradara declinerà questo evento a Mondo Su, chiaramente termosando i temi principali che sono l'illuminazione e il lume di candela e la trasferenza suggestiva. Tutta la luce nel centro storico, la pubblica illuminazione sarà spenta e le vie saranno illuminate da una serie di candele in terracotta, che renderanno onore e omaggio a un luogo suggestivo e romantico di suo. I ristoranti faranno dei menu speciali a lume di candela, quindi anche all'interno delle strutture dei ristoranti sarà possibile assaporare questa atmosfera molto suggestiva e romantica. Mentre come Comune, con Proloco e con Gadarinova, organizzeremo dei picnic sotto alle stelle con un cestino fatto apposto nel quale sarà possibile trovare tutte le eccellenze del territorio, un telo fatto apposta. Sarà un'iniziativa, una serata all'insegna della tranquillità e della sicurezza, quindi il nostro evento si concentrerà sotto spiaggia, sotto monte, un evento circoscritto con numero ristretto di prenotati, quindi sarà accessibile solo attraverso prenotazione e attraverso l'esibizione del Green Pass. Poi gli altri concessionari organizzeranno delle piccole iniziative, ma saranno sempre delle piccole cene, piuttosto che dare la possibilità ai propri ospiti di poter mangiare sotto le spiagge, ma quello che unirà e renderà magica l'atmosfera è proprio questa linea continua di oltre un chilometro di candele che illuminerà la nostra spiaggia.